Quest'anno si è detto tante volte il nostro settantesimo anniversario, però ogni volta fa un certo effetto pensare che i nostri nonni abbiano iniziato questo mestiere appunto 70 anni fa e che ormai tocchi a noi portarlo avanti e speriamo di avere lo stesso successo e la stessa passione che le ha animati fino ad ora. Tradizione per noi è al centro della filosofia aziendale, vuol dire made in Italy, vuol dire territorio, vuol dire qualità, questi sono i valori che hanno sempre caratterizzato la nostra azienda che io spero ma credo fortemente che continueranno a fare negli anni a venire.